Sitting dell'UGL davanti la Denso di San Salvo nella tarda mattinata di oggi, al centro della protesta, la mancata cassa integrazione a rotazione per gli operai. Alla protesta ha aderito anche Antonio Spera, segretario nazionale del sindacato. Noi sono più mesi che stiamo cercando di avere delle risposte in merito a delle richieste di incontro, ma ad oggi non abbiamo avuto ancora nessuna risposta dell'azienda. E' chiaro che l'azienda in questo momento sta mettendo in piedi un qualche cosa che non è prevista da nessun accordo, dove praticamente ha dei lavoratori che sono completamente in cassa integrazione a zero ore, mentre in alcuni reparti si continua a fare straordinario. Si parla di un incontro con alcuni cicli sindacali che questa cassa integrazione a rotazione in realtà partirà? Ma questo noi ce l'auguriamo. Noi l'abbiamo annunciato il presidio, l'abbiamo annunciato quattro giorni fa. Se probabilmente qualcuno se ne è accorto solo ieri sera che c'era questo problema, che ben venga, vuol dire che nei prossimi giorni dovremo programmare ancora altri presidi davanti allo stabilimento. Se questo serve per smuovere le coscienze della gente e soprattutto dell'azienda, per far prendere coscienza all'azienda che ci sono dei lavoratori che sono in difficoltà e che va adottata una rotazione, una rotazione seria che dia salario a tutti quanti i lavoratori come previsto dagli accordi.